se si impassa l'apertura se si impassa l'apertura no da lì dove c'è il petto lui non le mani io ti apro te la passo un po' non riesci a calciarci niente a mangiare le mani cioè rimaniamo con l'acchezza giunta e adesso devi andare in giro se no c'è da fare sopra i due piedi che vuoi giù no la passiamo davanti così non farà un cazzo si a scavare sotto così ancora in maniera che si abbassa è quello che il mio collega sta dicendo di fare prendi anche per un orecchio non mollarlo più tiralo no sai cos'è il problema voglio continuare ad andare giro un'altra pennata un'altra pennata mettiamo dentro davanti la pala e poi puliamo e siamo più comodi si a scavare per aver guardato il giorno ma è avvenuto vabbè non lo so ehi 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 chi è lui ehi adesso passiamo qui davanti da guardar dentro